Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntata di edicola. Allora ragazzi, prima di tutto buona Pasqua, questa puntata di edicola abbastanza speciale visto che la duecentesima cade proprio di Pasqua, quindi auguri a tutti e anche alle vostre famiglie. Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati alla duecentesima puntata di edicola. Quante cose abbiamo trovato? Davvero tantissime. A breve uscirà anche la puntata di edicola speciale, nella quale vi mostrerò tutto quello che abbiamo trovato nelle ultime cinquanta puntate. Bene, adesso direi di iniziare subito. Oggi appunto vedremo insieme i mollosi spinner putti, che sarebbero diciamo due giochi in uno, come dice qui, perché oltre a essere degli spinner, all'interno contengono appunto questa pasta putti. Quindi sia su queste paste, insomma sugli slime, pasta putte, sia sugli spinner, ho fatto tantissimi video, quindi se volete potete andarli a vedere. Allora, la collezione dovrebbe essere di sei spinner putti e ognuno diciamo che rappresenta un umore o un emoji del telefono. Per esempio questa rappresenta quella con i cuoricini, quindi quella diciamo quasi innamorata. Questa è quella che manda il bacino, questa è quella felice che ride, insomma, e questa è quella un po' più pazza, insomma, quindi rappresentano le varie emoji. Allora, il prezzo è di... Non lo dice? Quanto sono scema? Lo dice qua, 3,50 euro, sì. Va bene, dai, io direi di iniziare subito, mettiamo la scatola di lato. Ok, iniziamo subito con la prima bustina. Appunto, dice due giochi in uno e all'interno ci dovrebbe essere la trottola più, appunto, la pasta putti. Collezione le tutte. Ok, allora, da qui si apre, c'è prima di tutto il booklet, non so come definirlo, magazine, mini magazine. Ah, wow, racconta la storia delle trottole, delle curiosità, poi i veri personaggi. Oddio, hanno anche dei nomi, c'è Lovey, Maddy, Nicer, Ryder, Smiley e Kissy. E poi qui ci sono alcune... Ah, qui spiega alcune faccine, il significato di alcune faccine, poi ci sono dei giochi. Insomma, molto carino come booklet. Vediamo il primo che abbiamo trovato. Oh, aspetta, questa non so quale sia. Dobbiamo vedere. Ah, Ryder, quella che ride, praticamente. Dall'immagine sulla scatola non avevo notato le lacrimucce per intendere che sta piangendo dal troppo ridere. Comunque, eccola qui. La nostra trottola, vediamo. Allora, un attimo, proviamo a farla, diciamo, ruotare su se stessa. Oddio, che figo! Provo ancora più veloce. Anche se io non ho molta forza. Però, wow, che bello! Fantastica! Poi, invece, ecco, all'interno ci dovrebbe essere, appunto, la pasta putti. Vediamo. In questo caso è, appunto, azzurra. Oddio, è bellissima! Come vedete, anche, non è completamente azzurra, ma è anche leggermente trasparente, quindi si può vedere quello che si trova dietro. Vedete? Ed è fantastica. Wow. Nel caso voleste vedere meglio la faccina. Oddio, guardatela che bella! Anche senza la pasta. Ok, andiamo avanti. Passiamo alla seconda bustina. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, adesso abbiamo trovato Smiley! Peccato che la stampa sia un po' rovinata. Comunque, appunto, come vedete, è felicemente sorridente. Si può dire. Non lo so, nel caso l'ho inventato io. E la pasta putti, in questo caso, dentro è, oddio, appiccicosa. Ed è fucsia rosa. Sì, fucsia rosato. Mi ricorda molto il colore dell'alcol. Non chiedetemi perché, però è bellissimo. E' comunque molto carino questo colore. Ok, andiamo avanti. Terza bustina. Vediamo, vediamo. Un doppione, il primo doppione di queste bustine, di questi mollosi spinner putti. Ok, andiamo avanti. Prendiamo un'altra bustina. Speriamo di non trovare tanti doppioni. Vediamo, vediamo. Dov'è? Ok, abbiamo trovato kissy. Che carina! Allora, togliamo la carta, così. Guardate quanto è carina l'emoji. Allora, vediamo la pasta putti. Oddio, guardate che precisione. Fantastica. Wow. La pasta è fantastica. Mi piace tantissimo. È super morbida. Oddio. Eccola qui. Solo che si stacca un po' troppo. Nel senso che tu la stendi appena e poi si stacca. Ah no, in questo caso no. Però se tipo prendi un po' più di forza, ecco, si stacca subito. Ma è comunque bellissima. Passiamo a un'altra bustina. Vediamo, vediamo, vediamo. E abbiamo trovato l'obby. Che come vedete appunto rappresenta quella faccina innamorata. Insomma, quella che ha al posto degli occhi i cuori. Proprio quando prova tanto amore per qualcosa. Come vedete è molto carina. E in questo caso la pasta putty è, oddio, un pezzo di scotch che non se ne viene dalle mani. Perfetto. In questo caso la pasta putty è gialla. Ed è ancora più trasparente delle altre. Vediamo. È fantastica. No, mi piace tantissimo. Eccola qui appunto che gira. Ok, andiamo avanti. Apriamo un'altra bustina. Vediamo. Ok ragazzi. Abbiamo trovato Maddy. Quindi appunto quello un po' più pazzo. Che come vedete al posto degli occhi ha due stelle. E tra l'altro è una delle ultime emoji che è stata aggiunta a Whatsapp. Quindi è abbastanza recente. All'interno la pasta putty è rossa. Che come sapete è il mio colore preferita. Quindi sono felicissima di averla. Ovviamente è la più bella perché è rossa. E poi la faccina è fantastica. Un po' sporchino dentro per via della pasta. Vabbè. Comunque è fantastica. Ed è bellissima con la rossa ovviamente. Eccola qui appunto che gira. Adesso esce pure dall'inquadratura. Perfetto. Eccola qui. Bene. Apriamo un'altra bustina. Vediamo. Adesso ne manca solo uno, ovvero Nicer. Speriamo di trovarlo. Vediamo. Sì, abbiamo trovato Nicer. Evviva. Come vedete è molto carina questa faccina felice. Che fa l'occhiolino. Togliamo anche la carta. Sì, abbiamo trovato anche l'ultimo. In questo modo la collezione è al completo. Carinissima, davvero. E all'interno la pasta putti è viola. Eccola qui. Che bello. A questo punto non serve aprire le altre bustine perché insomma abbiamo completato la collezione. Facciamo girare anche questa trottola. Anzi io proverei a farle girare tutte insieme. Perciò ragazzi, che vi posso dire di tutti questi spinner putti? Sono fantastici, sono bellissimi. Non capisco perché questo sia sempre quello che si ferma prima. Comunque, davvero, sono bellissime. Io ve le consiglio perché sono praticamente due giochi in uno. Quindi è divertentissimo utilizzarle. E vedere anche come girano tutte insieme. Adesso penso che dovrò rimanere qua a farle girare tutte insieme contemporaneamente. Con queste qui che si toccano tutte insieme e che non smettono di toccarsi. L'unico che rimane e che se ne sta anche andando è quella verde. Mettiamole tutte insieme. Davvero, sono bellissime. Vi ricordo che il prezzo è di 3,50 euro. Eccole qui. Bene, adesso passiamo i saluti. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale. E di passare anche dal mio profilo Instagram. Ne ho due. Uno che si chiama JuliaWar e uno che si chiama Giulia.Guerra.03 Mi raccomando, seguitemi su entrambi e lasciate tanti cuori. E inoltre vi ricordo di seguire anche la mia pagina di Facebook che si chiama GiuliaGuerra03 della quale lascio qua sotto il link nella descrizione. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!